Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io sono IJ Ale e in compagnia qua con me c'è Il grande Dragox E CJ In questa breve intro vi dirò che cosa andremo a fare in questo video Praticamente fare un video su Black Corps Come avrete già visto dall'immagine in sotto pressione Perché le stiamo pressando Che andremo a... Allora, lascerò Sì sì, allora Vi metterò delle immagini molto belle E di un video a tre video Quindi spero abbiate capito Ciao e buona visione Ciao Sei in mani sicure con me, fidati Ecco perfetto Mi hanno già fatto saltare in mare Farà una doppia Una doppia, perfetto No no no, non uscirò, non uscirò Mi sono già bene, dai Uccisione Uccisione No, mi ha tirato una gomitata Maledetto E' stato qualcuno Ce lo sapevo Oh mamma mia Un'iscrizione confermata Oh le uccisione Uno, non c'è qualcuno Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo lì Arriva lì Eccolo qua Uno, non c'è nessuno Perfetto Adesso 360 Quattro 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 Cioè Ispettabile Quattro Quattro Un'altra 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 cavolo lo sapevo che c'era proprio dentro bisogna fare attenzione ogni volta che scoglie c'entra dalla mappa c'entra quella casetta è pieno come una topaia secondo te ci sono però oh mamma mia del fucile eccolo lì dentro che cavolo aiuto di nuovo grazie per avermelo detto guarda lì come mi diverto non mi diverto per niente perchè mi ha speccato lì per prima oh merda no sempre quello mi sorge siii ho fatto una visione no ma perchè proprio adesso devi caricare si arrivano tu è grandissimo perchè proprio adesso doveva ricaricare oh merda mi ammazzo aiuto scappa 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 12 26 e vabbè da dietro mamma mia no quanto ho fatto 28 19 abbiamo perso vediamo la visuale morte finale guarda un po' camper mi dicono questo nelle palle l'ha preso eh vabbè madonna allora l'ho ucciso madonna mia che forte madonna mia che forte le pezzi uccisioni con la vmp a livello 1 scommetto che c'è uno qua che vuole fare il giro ma non c'è un po' per chi lo uccide e sono alto si vede al soli second bai ci spacchiamo spettacolo bene sono dei sono da una volta c'è un'altra c'è un'altra ci sono gli alieni c'è un camperone l'uomo bravissimo è stato ci sono i miei i miei che mandano le luci pam 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 gli alieni aiuto oh oh ho fatto una muta dove cazzo vai c'è un palazzo c'è un palazzo un palazzo guarda che camper aiuto dietro di me dietro di me stai attento bravissimo stai attento madonna hai l'approvvigionamento online oh il mio hai l'approvvigionamento online guarda che capone il talon tanta roba talon in attesa di ordini guarda che il talon attento hai tu il talon si il mio è mia 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 si l'ho fatta fatto uccisione con lo schianto gravitazionale mi metto pure anche io esigenere va bene ora faccio una nuclea basta si ti piacerebbe cominciamo faccio la nuclea c'è un'acqua come fai l'acqua vabbè vi darci anche un po' di enfasi al e quando si vi colpi nooo guarda che muoio guarda che muoio sono molto nella mia stessa granata complimenti dai l'odio quello basta perché han tolto quella ma non è un basso che potevi vedere città uccideva guarda che schifo che sembra la assagliava morte anche tu sei pensando col che penso io guarda lo sapevo come ho fatto arrivò io con un cibo anche me mi cibo ms vado lo faccio fallo fallo annula guarda ancora con il cicello del inco evo. marco arcella ma quello in un cubo poteva uccidere ecco grazie non sapevo un cizione quelli anzi sicuro ha ucciso quello lì che schifo e mi ha detto quello che ho fatto dc 28 26 chi ha volto veramente sì infatti quello che dice guardami guardami no non si vede guarda no non si vede no non si vede sì mi si vede ci mettiamo qua qua sopra e abbiamo il primo l'invento che arriva mi cederemi alleati mi sembra giusto è un'alleata almeno allora bisogna andare e prendere la calcina in culetto ecco scherzavo non posso farlo la faccia in culetto no 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 guarda che cazzo è la merda guarda che è evidente eh lo sapevo che me lo sponco così a caso si qua sotto cioè guarda lì 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 nooo dove andiamo a fare i culetti a finisce ai bimbi che vogliono fare i cattivi per natale e che non riceveranno nessun regalo di natale perchè è natale boom sono stato io buco ma ero nemico da me no mi hanno staccato da dietro guarda guarda lì guarda che su buca da lì guarda che su buca da lì guarda che su buca da lì quando ero staccato cosa era lì a bimbi che dì vienivio si a bimbi che sbanassata sembra era lì ok erv troubled in E battelo